Io alla fine della guerra feci questa esperienza, e cioè che incontrai Florestano, mi dissero in piazza, e stava bruciando il Tribunale d'allora, il Palazzo della Regione, stava bruciando, io in piazza perché ero, dopo poi vieni a casa da San Martino, passai gli ultimi mesi qui a Ferrara, mi dissero guarda che al Varano ci sono i compagni là, va bene, me lo disse uno che lo conoscevo di vista, e andai e lì incontrai Florestano, Florestano Vancini, che facciamo anche un'esperienza notevole perché i compagni del Burgo San Luca sparavano a Burgo San Luca, i tedeschi dovevano attraversare il volano, no, e noi andammo sul campanile di San Giuseppe e di lì si vedevano e di lì si sparava, cazzo, adesso non ricordo più chi fosse però aveva 23-24 anni, un sotto ufficiale dell'esercito che era con noi, come era ferrarese, e i tedeschi risposero un giorno, infatti ero lassù, c'ero io, c'era Florestano, c'era Garbini e alcuni altri, cazzo ragazzi, una palottola picchiò sulla campana, poi frighi, esatto, frighi.